e soluzioni sostenibili. L'8 settembre del 2007 succede qualcosa di rivoluzionario. Rarie impostazioni danno origine ad una manifestazione organizzata su un settimane che è un successo straordinario. Alla fine della giornata si conteranno quasi 350.000 firm per la legge Parlamento Pulito. È il primo video. 25 aprile 2008. Secondo video. Questa volta si promuove l'abolizione del movimento pubblico all'editorio della legge Gastronomi e dell'ordine dei giornalisti. Nel 2009 a Milano nasce il Movimento 5 Stelle. Un movimento politico basato su internet e sul principio della democrazia diretta. Protesta, proposta e proattività. Queste le parole che guidano il movimento. Oltre a stoppa le auto blu, stoppa i condannati in Parlamento, stoppa gli sprechi della classe politica. La partecipazione collettiva è la chiave di un nuovo modo di fare politica che non sta a